Trasferta tutta regina per Giuseppe Rivoti e Francesca Martino. Questo bellissimo paesaggio e questa splendida veduta nello stretto di Messina ci colloca, cara Francesca, in un palazzo prestigioso, in un palazzo importante che scopriremo e quando lo scopriremo? All'interno di due volte al mese. Lo scopriremo in questa settimana e daremo vita alla cultura storica del territorio. Felice di stare lassù.